Signor Sindaco, questa è fatta col cuore, voglio che venga ben inquadrata, perché siamo fieri di avere un'amministrazione come voi e quindi lo metteremo su Facebook, questa immagine vorrei chiedere, ti tengo tantissimo, grazie signor Sindaco per la collaborazione, grazie di tutto e mi mandi suo figlio, mi raccomando, per severanza, per il vostro aiuto, i copigliani ci potete, il gruppo è pienezza, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Poi voglio dare un altro seguito, all'approccio a Renzo, a Matteo, a Matteo, a Matteo, ragazzi è un nostro associato che oltre nel tempo libero fa anche la cocezza e quindi vi ho detto che oggi ha lavorato, oggi ha lavorato molto, lui e la sua professione si chiama, molto brava, molto bravissimo, questo ha trattato, anche il vostro associato, ma vi nascondete, dovete venire qui, tutti vi prendete qui, venite ragazzi, una bella foto, e vi faccio volentieri con un calendario di manifestazioni che noi abbiamo, abbiamo dato il nostro senso di rappresentare di pubblicità. Ragazzi questo ce lo ha regalato i nostri amici del gruppo remostri modellistico Alibi di Cosato, per il ringraziamento per i giari, noi gli facciamo un grande applauso perché gli vogliamo prendere questi ragazzi, sono stati spettacolari e fantastici, sono veramente con tempo, grazie, voglio ringraziare tutto il direttivo, parlo di Brunè e Roberto, parlo di Bruno e Roberto, Bruno e Roberto, Ferrari e Roberto e Bruno, non lo vado a dire perché per anticipare devo fare queste cose, che rientrano in un video, quindi noi festeggiamo i dieci anni di questa stupenda realtà, grazie all'amministrazione comunale, la precedente e quella attuale, io vado a tagliare la torta. Volevo ringraziare, ma di cuore veramente tutte le nostre cose, guardate cosa ci hanno preparato, un grazie sentito, veramente del cuore, grazie, 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 sono contento, signor sindaco, non lo vedo più, non lo vedo più, venga perché il primo pezzo lo devi mangiare l'antastico, grazie, ha fi dei bellissimi, ma figlio,Нa sottorea, noi facciamo eccomando, adesso siano prassi all'attenzione sui cappi, il bacio è lo stesso, ma figlio e i perwritto Allora, se ce ne è ancora, andiamo.